riceve invece delle chicche da parte di Popovic e secondo me questo è sbagliato pari opportunità anche per gli altri e le altre mentre Girovini sbaglia il tiro da tre, prima della partita e poi si fa vedere questa caramella, ma non vale, non vale ma com'è iniziato anche il quarto periodo avanti